raccontiamo una foto in particolare di ugo mulas lo so che vi sembrerò insistente con quest'autore perché per chi mi segue la prima volta che faccio addirittura quattro video su un autore però come si dice ognuno ha i suoi amori ma al di là del mio amore particolare per mulas c'è anche da dire una cosa che ci sono degli autori che sono stati sviscerati no bene o male e che hanno avuto più o meno quello che meritavano al livello anche di riconoscimento ma questo vale soprattutto per gli autori che sono stati in qualche modo riconosciuti anche dalla massa poi ci sono autori che hanno fatto fare dei passi giganti alla fotografia e al concetto di fotografia e che proprio per la loro complessità non hanno avuto il riscontro che secondo me meriterebbero in particolare poi questo accade quando gli autori sono italiani perché uno pensa che l'italia non viene vista all'estero bene perché siamo snobbati in realtà in realtà sono gli italiani stessi a snobbare l'italia e quindi quella è solo la conseguenza del nostro atteggiamento verso noi stessi ecco perché io sto postando solo fotografi italiani e ecco perché ugo mulas invece va guardato con profonda attenzione vedete la la fama di mulas secondo me più che dalla comprensione delle sue fotografie nasce spesso dal fatto che se n'è andato molto presto e come succede spesso si tende a mitizzare questo aspetto che negli anni 60 poi era era caratteristico ma pochi hanno compreso veramente la profondità del dell'immagine di mulas e soprattutto il concetto che c'era dietro quello che lui aveva fatto in più rispetto a tanti altri fotografi adesso ci saranno sicuramente altri fotografi che hanno la sua stessa capacità io questo non lo metto in dubbio perché io non conosco tutti i fotografi so però che questo aspetto della fotografia di ritratto in particolare ma in generale del linguaggio fotografico io l'ho visto con questa forza solo i mulas prendiamo per esempio i ritratti no se noi prendiamo i grandi ritrattisti da avedon a pen noi vediamo una grande capacità da parte di questi ritrattisti di dare una loro un loro canale una loro forza a quel ritratto se voi prendete i ritratti di avedon vedete avedon questa è sicuramente una caratteristica che fa di un fotografo un autore tra l'altro con tutte le rivoluzioni che poi il modo di fotografare i ritratti di avedon ha poi portato e questo va assolutamente riconosciuto quello che invece fa un ritrattista come mulas e lo chiamo ritrattista anche quando fotografa edifici gruppi di persone o altre cose perché per lui ritrarre qualche cosa ha un altro aspetto cioè quello che lui fa è entrare in empatia con il soggetto e quindi la sua presenza esiste perché esiste il suo punto di vista quindi lui è capacissimo di di essere di avere una forte personalità e questa emerge se voi andate a guardarvi le sue foto di qualsiasi genere con molta attenzione ma quello che lui fa è entrare in empatia con il soggetto quindi la sua fotografia non è non fa protagonista il fotografo ma fa protagonista l'empatia tra il fotografo il soggetto ritratto il significato del soggetto ritratto cosa che molti ritrattisti secondo me manca vedete che ne so se noi pensiamo ai ritrattisti tipo gianni berengo gardin no loro facevano un ritratto storico e quindi si preoccupavano quasi più dell'ambiente della persona nell'ambiente che della persona in sé poi abbiamo ritrattisti psicologici come avedon che invece si preoccupavano di entrare in alcuni meandri strani della mente umana ritraendo chiaramente se stessi poi ci sono i ritrattisti estetici no quelli di moda ma i ritrattisti i ritrattisti empatici sono pochissimi secondo me e quindi per comprendere questo aspetto di mulas bisogna approfondire molto il discorso sulla fotografia e anche sui soggetti che lui ha ritratto ecco perché mulas non viene compreso perché bisogna fare tutto un lungo percorso tra l'altro le sue foto non sono mai estetizzanti e questo è un aspetto che lo porta a essere ancora meno popolare ho preso come esempio questo ritratto fatto ad oriana fallaci che è una grande giornalista degli anni sessanta chi non la conoscesse ho preso due due cose da vikipedia pertanto per capire chi è allora nel 61 realizzò un reportage sulla condizione della donna in oriente pensate a quanto è attuale questo problema lei l'ha fatto nel 61 e l'ha fatto in italia non in america cerchiamo di capirci realizzò un reportage sulla condizione della donna in oriente che poi diventa il primo vero successo interiale della fallaci il sesso inutile poi alla vigilia dello sbarco americano sulla luna la fallaci partì per gli stati uniti d'america per andare a intervistare astronauti tecnici della nasa nel 65 pubblicò se il sole muore diario di un'esperienza che la scrittrice dedica a suo padre nel 67 si legò in qualità di corrispondente di guerra per l'europeo in vietnam a metà del 68 la giornalista lasciò provvisualmente il fronte per tornare negli stati uniti a seguito della morte di martin luther king insomma una giornalista coi controcazzi scusate il termine come non se ne vedono più da secoli secondo me l'equivalente di tiziano terzani al femminile insomma un personaggio incredibile però qual è la forza di questo ritratto e della serie dei ritratti che mulas ha fatto a oriana fallaci se voi ve li andate a vedere li capirete fino in fondo il fatto che lui va nella sua empatia rispetto a questo personaggio e quindi non descrive oriana fallaci come viene come emerge no come l'intellettuale di un certo tipo o il personaggio serioso ma cerca di raccontarla nella sua umanità questa foto per me è abbastanza emblematica però ce ne sono altre dove dove lei sorride no e gioca tra l'altro mulas e lei sono praticamente coetanei se non mi sbaglio guardate per esempio questa immagine no allora iniziamo vuol dire che l'immagine è leggermente evanescente sfocata cosa che poi con la pellicola accadeva spesso proprio per una caratteristica dell'analogico però questo effetto patinato morbido sull'immagine funziona benissimo guardate come la ritrae lei ha la testa leggermente verso l'alto però lo sguardo guarda avanti questa potrebbe sembrare un'aria quasi presuntuosa spocchiosa in realtà descrive un aspetto di lei vedete il metà del viso è quasi sovraesposto e l'altra metà ha queste ombre dure che comunque lasciano l'occhio aperto tra l'altro questo tipo di luce in studio vedete questo triangolo che si forma sotto l'occhio si chiama luce rembrandt andatevela a vedere ha delle caratteristiche però il fatto di coglierla con metà viso quasi sovraesposto l'altra metà con l'usitura racconta molto di questo personaggio andiamo poi ha una scollatura che lei mostra tranquillamente parte del reggisino esce no e quindi pure questa sua femminilità ma questa sua femminilità è anche descritta dalle mani incrociate che descrivono comunque una chiusura su se stessa ma guardate le mani incrociate c'è una mano che che si perde nel buio un'altra invece che ha delle dita la luce vedete quasi come se lei si carezzasse poi questo elemento femminile questo bracciale che si trova qui al centro e questa gonna al ginocchio con le gambe quasi chiuse quindi in questo tipo di immagine ci sono tutti gli aspetti di questa di questo personaggio il suo essere donna il suo essere ferma su se stessa comunque la sua dignità se vogliamo anche la sua spocchiosità per certi aspetti però comunque ha queste gambe chiuse queste mani concerte insomma la luce che comunque racconta le forme del seno vedete dietro questo tipo di ritratto c'è Oriana Fallaci ma c'è anche Okumulas capite quando dico empatia che cosa significa significa che lui non ritraeva mai qualcuno pensando semplicemente di tirare fuori la foto per se stesso ma lui cercava l'empatia in questa cosa e questo è un tipo di caratteristica secondo me che da quelli in più alla fotografia adesso se io vedo questa fotografia senza conoscere Oriana Fallaci sicuramente posso dargli una validità cioè ha una validità a sé stante al di là del fatto che poi noi conosciamo il personaggio o meno ma nel momento in cui poi andiamo ad approfondire ed entriamo nel personaggio in un certo modo capiamo che la fotografia ha dei significati che vanno ben al di là di quello che può sembrare e quindi lui riesce a fare nel ritratto quello che spesso non si riesce a fare attraverso il ritratto cioè quello di dare più significati più cose all'interno di un'immagine ecco dove era la grandezza di Mulas ecco perché lui ha fotografato tanti artisti ecco perché la sua fotografia era sempre accompagnata da un significato esterno ecco anche il senso delle sue verifiche lui arriva ad avere empatia con il mezzo stesso perché l'empatia che lui sviluppava nei confronti della fotografia che faceva era insita nella fotografia che fotografava se stessa Mulas è quello che secondo me ha colto il fulcro di quello che è il senso della fotografia e probabilmente con gli anni ce ne accorgeremo anche noi senza contare poi tutti gli aspetti formali dal disegno che lui utilizzava nelle immagini quindi l'icona di cui ogni tanto vi parlo l'aspetto psicologico delle immagini insomma parliamo di un grande autore quello che vi posso consigliare io di studiarlo a fondo perché qui siamo davanti a uno dei più grandi fotografi mai esistiti e proprio per questo poco compreso ciao